Diciamo che il fuoco comincia ad essere importante per noi, comincia ad appartenere. Il progetto del fuoco è diventato un oggetto straordinario, perché alla fine i bagni nostri che vogliamo proporre sono tutti i bagni che devono diventare delle piccole spa. Quindi come nelle spa le persone sono abituate ad avere delle candele sul bolo di vasca oppure degli oli che si incendiano. Il concetto nostro di aver portato il fuoco è un progetto straordinario, perché è un fuoco dove si può veramente incassare a parete, si può progettare. Un fuoco alimentato a vietanolo, quindi non c'è bisogno di canne fumari, non far fumo, non l'odore, molto pratico l'utilizzo dell'utente finale e nello stesso tempo ha un'anima straordinaria. Il progetto il canto del fuoco è nato con l'arbitretto Domenico De Palo ed è curato anche dal maestro fumista Massimo Pistolesi. È un progetto che non si ferma solo al bagno, ma è anche un articolo, un cammino che esce fuori dal bagno. Il bagno oggi comincia a essere stretto, è un progetto che si può progettarlo e proporlo tranquillamente per il living o per le taverne, perché esiste anche poi nella versione a legno. Ma il progetto straordinario è quello di aver fatto questo cammino a vietanolo pensando a quegli appartamenti nelle città dove chi abita a secondo piano, a terzo piano, è impossibile inserire cammini perché non sono predisposti a canne fumare. Con questo concetto lo si può tranquillamente utilizzare come un tv, andarlo a comprare e appoggiarlo in un soggiorno, adesso si può tranquillamente in un attimo comprare il cammino, appoggiarlo lì accanto al divano e avere anche delle città dove fino a ieri è pensabile avere un po' di calore e di atmosfera. Dire Antonio Lupi oggi è uno stile, uno stile dove effettivamente tutto quello che riguarda la progettazione noi ci vogliamo mettere in confronto, quindi affrontiamo anche queste determinate fiere, determinati progetti pensando che il design ci appartiene, fa parte del nostro DNA, in più la nostra forza è la sartorialità, tutto quello che voi vedete qui è tutto realizzato manualmente, sartoriale non abbiamo assolutamente nessun pezzo al magazzino, ma realizziamo tutto al commessa.